L'esperienza dell'RSI, Repubblica Sociale Italiana, si deve ricollegare a tutta l'esperienza storica del fascismo e non può non ricollegarsi a quella esperienza, sia dalla fase delle origini del fascismo e quindi dagli inizi del XIX, sia nella fase squadristica vera e propria fino alla marcia su Roma, alla formazione del primo governo Mussolini e successivamente la nascita del regime vero e proprio, quello che viene chiamato anche il ventennio fascista, fino ad arrivare al crollo del regime al 25 luglio del 1943. Perché si deve ricollegare a questo? Di solito si collegava la nascita della Repubblica Sociale Italiana alla riemersione dei vecchi squadristi, cioè degli squadristi che dal XIX al XXII, poi anche con Strascichi ancora fino al XXIV, XXV e anche oltre, avevano dato vita al fascismo ma che non avevano poi ottenuto quei vantaggi o quei privilegi o il regime per loro non si era evoluto nei sensi desiderati. E quando si riemerge, riemerge il fascismo nel settembre del 1943, questi personaggi messi in disparte durante il regime sarebbero riemersi in chiave predominante. Questa visione è che non va totalmente negata nel senso che una parte di questi ci sono, però se uno considera solo questa presenza non comprende la storia complessiva della Repubblica Sociale italiana, nel senso che all'interno della Repubblica Sociale italiana figurano anche altri gruppi, altre singole personalità che non si riallacciano alla componente squadristica. C'è anche il fattore età. Lo squadrista 20-30enne del 1919-1922 è un quarantenne, se non un cinquantenne, nel 1943. Lo stesso Mussolini che aveva 36 anni nel 19, quando fonda il movimento dei fasci, ne ha 60 anni, nel 1943. Ma negli anni 20-30 sono cresciute altre generazioni. È cresciuta la generazione dei nati nel 9, 10, 11 o 12 che non hanno vissuto l'esperienza squadristica perché erano dei bambini, però hanno risentito dell'educazione fascista. Così come ci sono quelli nati 19, 20, 21, 22, 23 che hanno vissuto totalmente sotto il regime fascista, educati totalmente la generazione del Vittorio, i quali hanno 20 anni o 19 anni o 21 anni o 18 anni nel 1943. E noi vediamo la presenza di gruppi anche di trentenni, così come di ventenni o di adolescenti nella Repubblica Sociale Italiana. Non solo, ma gli eventi del ventennio hanno giocato un ruolo nel ridefinire le appartenenze, nel senso che noi possiamo vedere ex squadristi, ex sansepolcristi, cioè quanti avevano dato vita alla riunione di sansepolcro fondativa dei fasci di combattimento, che si distaccano da regime, si distaccano da Mussolini, prima ancora della defenestrazione di Mussolini stesso il 25 luglio del 43. Esiste un sottofascismo in Italia che poi darà il suo appoggio al fascismo, anche se non coincide con il fascismo. E questa nebulosa fascista o questo sottofascismo che otterrà vantaggi, privilegi negli anni 20-30, potere economico, industriale, finanziario, agrario, alti borghesi, medio borghesi, saranno quelli che, diciamo, fra il 42, di fronte alla disfatta militare e nella primavera del 1943, sottrarranno il loro consenso, la loro adesione al fascismo. Quindi quando il fascismo si ripresenterà nel settembre del 43, costoro sono già da un'altra parte. Semmai cercheranno di barcamenarsi tra resistenza e fascisti di ritorno, ma non possono più dare quella adesione al fascismo come movimento prima e poi regime di ordine, di disciplina sociale e così via. Il fascismo diventa, ma lo sta già diventando alla fine del 42 e nel 43, dall'inverno all'estate del 43, sta già diventando un fenomeno di disordine. Quei gerarchi che sono più vicini a queste posizioni si ritraggono anch'essi. Dunque, anche se erano stati squadristi, sansepolcristi, eccetera, questi gerarchi non passeranno più nella Repubblica Sociale Italiana, la quale Repubblica Sociale Italiana risentirà anche del venir meno, non solo di questi ceti sociali, ma anche di personalità di rilievo, perché non avrà più personalità di rilievo su cui far affidamento e anche da chiamare per costituire vuoi il governo, infatti è un governo formato da personaggi non così rilevanti, ma anche alcune amministrazioni locali, alcuni enti, istituzioni territoriali o anche centrali, non potrà più contare su nomi di rilievo. Si vanteranno, infatti, e lo propaganderanno in tutti i modi, del fatto che Giovanni Gentile, il filosofo Giovanni Gentile, ha dato la sua adesione. Diciamo, negli anni del regime, i nati intorno al 10, 11, 12, quindi che non avevano vissuto l'esperienza squadrista, erano stati mossi da quell'aspetto che di tanto in tanto Mussolini sbandierava, della giustizia sociale, quando ripresenta il discorso di accorciare le distanze sociali e di addivenire a uno stato corporativo, di sviluppare le corporazioni, eccetera. In questo momento ci sono molti giovani che, delle università, ma anche extrauniversitari, che però aderiscono al sindacato e quindi scrivono sui giornali del sindacato, inneggiando a questa soluzione, spingono per un cambiamento di natura economico-sociale. Questi che sono stati chiamati frondisti, perché gli si eletti nel dopoguerra come antifascisti fin da allora, in realtà è chiaro che non erano antifascisti fin da allora, si ritenevano fascisti e agivano pensando che si poteva realizzare quello che era il loro fascismo. Costoro entrano in crisi rispetto al fascismo alla fine, qualcuno già, alla fine degli anni 30 e qualcuno agli inizi del 42. Per alcuni è la guerra di Spagna, il fatto che si va contro una repubblica per imporre una reazione, ma soprattutto si allontaneranno fra il 41 e il 42. Tant'è vero che ci si lamenterà Mussolini stesso, lo ripeterà, gli intellettuali si stanno distaccando. Alcuni di questi però restano chiusi nel mondo, nel guscio, quello che si può chiamare il guscio fascista. E quindi il fascismo sarebbe stato una bellissima cosa, può ancora essere una bellissima cosa, solo che si realizzassero quelli che sono i postulati fascisti veri e propri. E questa componente è la componente, io l'ho definita dei rinnovatori, quelli che devono riformarlo però il partito fascista, quelli che devono riformare anche lo stato fascista, cioè riformare il fascismo, va riformato, va cambiato proprio perché non ci devono essere dentro il fascismo quanti hanno tratto prebende, privilegi, si sono arricchiti grazie al fascismo, c'è stata una grande corruzione, questi gerarchi che erano entrati poveri poi se ne sono usciti con grandi fortune e dunque si deve ripulire, fare pulizia. Dunque vanno fatti fuori questi che hanno demeritato. Questi che hanno demeritato, se una parte appunto si ritrae da prima e non ritornerà dopo l'8 settembre 1943, alcuni invece cercheranno poi di rientrare, ci sono scontri interni al fascismo nell'RSI nelle prime settimane, nei primi mesi, finché il tutto si risolverà con l'ingresso di questi anche perché non ci sono uomini sufficienti, nel senso che la Repubblica Sociale italiana non solo non ha quei dirigenti ai massimi livelli su cui poteva contare il regime ma anche a un livello intermedio non è così facile trovare personale e siccome questi non si iscrivono al nuovo partito, a questo punto come si fa a reggere queste istituzioni, questi enti e così via, allora possiamo di nuovo far riferimento a questi così come cercheranno di fare riferimento a quanti già partecipi del fascismo del ventennio si sono ritratti il 25 luglio del 43 e alcuni di questi non si è mai passati a Badoglio oppure anche ad altri che erano classicamente riconosciuti come militanti, esponenti del partito socialista o del partito repubblicano o anche cattolici non fascisti e avere queste personalità che gestiscono delle strutture. Questa è una prova che il partito fascista repubblicano non ha quei consensi e non può riproporsi come il vecchio partito nazionale fascista e contestualmente che per reggere certe situazioni è meglio avere un podestà semmai di formazione mazziniana in un comune del fuorilvese è meglio avere quello o avere uno che è stato socialista in qualche modo o anche un cattolico non esposto col fascismo uno riconosciuto come tale per gestire. È indicativo che nel marzo del 44 siano obbligati c'è lo stesso Mussolini che era stato durissimo nel volere il partito unico a fare questa circolare a stendere questa circolare in cui richiama quello che poi era anche un punto del manifesto di Verona approvato dal congresso del partito tenutosi appunto a Verona il 14 novembre del 43 in cui c'era scritto che c'è un unico partito e quindi un unico non sono ammessi dunque altri partiti però la tessera del partito non è obbligatoria per incarichi di tipo amministrativo tecnico. Quindi ci sono queste traiettorie interne che definiscono anche le anime interne al fascismo perché se i rinnovatori per dire i più giovani o quest'anima dei trentenni chiamiamola così può essere favorevole all'ingresso di personalità che vengono da altri partiti da altre esperienze chiamiamole culturali politiche nella gestione dello Stato ci sono invece i vecchi squadristi l'anima squadristica che non li vuole i sindacalisti cioè i sindacalisti potevano essere favorevoli perché loro non avrebbero voluto un partito unico come si ricostruirà nella Repubblica Sociale Italiana e anche altre anime che vorrebbero appunto dar vita ci sono queste anime nazional patriottiche rinnovatrici che vorrebbero dar vita a quello che possiamo definire una sorta di CLN, di Comitato di Liberazione Nazionale alla fascista, un comitato di liberazione dove il fascismo sia centrale, sia gemone però al quale partecipino questi esponenti di partiti non fascisti o addirittura antifascisti escluse le estreme e quindi esclusi i comunisti ed esclusi gli azionisti più attivi.